Piper, Leo fissò il pugnale. «La tua idea mi piace meno di quanto pensassi. Credi che uno di noi due sconfiggerà Gea e che l'altro morirà? O magari uno di noi morirà mentre sconfiggerà Gea? Oppure, ragazzi, diventeremo pazzi se continuiamo a rimuginarci sopra», disse Jason. «Sapete come funzionano le profezie? Gli eroi si cacciano sempre nei guai, tentando di contrastarle». «Certo, non vorremmo mai cacciarci nei guai», bofonchiò Leo. «Le cose stanno andando così bene adesso». «Sai cosa voglio dire», ribatte Jason. «Il verso sull'ultimo fiato potrebbe non essere collegato alla parte che parla di fuoco-tempesta. Per quanto ne sappiamo, magari noi due non siamo neanche il fuoco e la tempesta. Percy è in grado di provocare gli uragani. «E io potrei sempre incendiare il coach», propose Leo. «A quel punto sarebbe lui il fuoco». Al pensiero di un satiro in fiamme che, attaccando Gea, urlava «Muori, canaglia!», Piper per poco non scoppiò a ridere, ma non rise. «Spero di sbagliarmi», disse in tono prudente. «Però tutta questa impresa è partita con noi tre. Trovare Hera e destare Porfirio, il re dei giganti. Ho la sensazione che pure la guerra finirà con noi. Nel bene e nel male». «Ehi, a me personalmente questo terzetto sta simpatico», esclamò Jason. «Concordo», aggiunse Leo. «Noi siamo le persone che preferisco». Piper abbozzò un sorriso. Voleva davvero bene a quei due. Quanto avrebbe voluto poter utilizzare la lingua ammaliatrice con le parche, descrivere un lieto fine e costringerle a farlo avverare. Purtroppo era difficile immaginare un lieto fine con tutti i pensieri cupi che le passavano per la testa. Temeva che il gigante Clizio fosse stato messo sul loro cammino per eliminare la minaccia di Leo. Dopodiché, Gea avrebbe tentato di togliere di mezzo anche Jason. Senza fuoco o tempesta, la loro missione sarebbe fallita. Eppure quel clima gelido la preoccupava. Non era lo scettro di Diocleziano a provocarlo, n'era certa. Il vento freddo, la pioggia frammista a ghiaccio le sembravano volutamente ostili. E in un certo senso familiari. Quell'odore nell'aria. Quell'intenso odore di... Piper avrebbe dovuto capire prima quello che stava succedendo, ma aveva trascorso gran parte della vita nella California del Sud, senza grossi cambiamenti di stagione. Non era cresciuta con quell'odore di... Neve imminente. Leo, suona l'allarme! Piper non si era resa conto di utilizzare la lingua maliatrice, ma Leo lasciò cadere immediatamente il cacciavite e premette il pulsante dell'allarme. Vedendo che non accadeva niente, il figlio di Efesto corrugò la fronte. Ah, è scollegato, si ricordò. Efestus è fuori uso. Dammi un minuto per riaccendere il sistema. Non ce l'abbiamo, un minuto. Fuoco! Ci servono delle fiale di fuoco greco. Jason evoca i venti. Venti caldi meridionali. Aspetta, cosa c'è? replicò Jason, perplesso. Piper, che succede? È lei! Piper afferrò il pugnale. È tornata! Dobbiamo... Prima che riuscisse a finire la frase, la nave sbandò a sinistra. La temperatura calò così alla svelta che le vele crepitavano per il ghiaccio. Gli scudi di bronzo lungo i parapetti scoppiarono come lattine di bibite gassate tenute troppo sotto pressione. Jason sguainò la spada, ma era tardi. Un'ondata di particelle di ghiaccio lo travolse, rivestendolo come una ciambella ricoperta di glassa e congelandolo all'istante. Sotto lo strato di ghiaccio, aveva gli occhi sgranati per lo stupore. Leo, fiamme! gridò Piper. Subito! La mano destra di Leo si accese, ma un vortice di vento lo avvolse e smorzò il fuoco. Leo afferrò la sfera di Archimede, mentre una nube a imbuto di nevischio lo sollevava da terra. Ehi! urlò. Lasciami andare! Piper corse da lui, ma una voce nella tempesta disse «Oh, sì, Leo Valdes! Ti lascerò andare per sempre!» Leo schizzò verso il cielo, come scagliato da una catapulta, e scomparve fra le nubi. No! Piper sollevò il pugnale, ma non c'era niente da attaccare. Guardò disperata verso le scale, sperando di vedere gli altri compagni che arrivavano in soccorso, però un blocco di ghiaccio aveva sigillato la botola. Forse il ponte inferiore era già tutto congelato. Le serviva un'arma migliore per combattere. Qualcosa di più della lingua ammaliatrice, di uno stupido pugnale che prevedeva il futuro, o di una cornucopia che sparava prosciutti e frutta fresca. Si domandò se ce l'avrebbe fatta raggiungere la ballista. Ma a quel punto comparvero i nemici, e Piper si rese conto che nessuna arma sarebbe bastata. In piedi, al centro della nave, c'era una ragazza con un morbido abito di seta bianca e una criniera di capelli neri tirati all'indietro e fermati da una corona d'argento. Aveva gli occhi color caffè, privi di calore. Dietro di lei c'erano i suoi fratelli, due giovani con ali di piume viola, capelli bianchissimi, e spade di bronzo celeste. Che bello rivederti, ma chère, disse Chione, la dea della neve. È arrivato il momento di fare una gelida rimpatriata.